Ciao ragazzi, come state? Ok, vedo che vi manco molto e quindi per questo volevo fare questa videochiamata dove ho intenzione di parlare un po' della mia gente e così ho intenzione di comparare come la gente la Serbia e come la gente italiana. Allora, prima di tutto se qualcuno non sa Serbia si trova in Europa, è vicino Coazia, Montenegro, Bosnia e Terzegovina, poi Macedonia, eccetera, diciamo l'ultimo limite è Italia. Serbia è stata parte della lexicoslavia, ok? Nel mio paese si parla serbo, ok? Non si parla croato, mi dispiace, ok? Ma ognuno di noi può parlare anche bosniaco, anche montenegrino e siccome tutte queste lingue sono praticamente uguali, diciamo che la differenza si trova nel dialetto, diciamo così, ed anche un po' di vocabolario ed anche un po' del modo di creare le frasi, eccetera, ma in generale si è possibile capirsi senza problemi. Cioè noi ci capiamo perfettamente, non ci sono problemi. ok, ora, nel nord di Serbia diciamo che la gente è freddissima, ok? Ma diciamo che proprio come in Italia, nel nord di Serbia soltanto è necessario conoscere la gente, così piano piano, loro hanno intenzione di darti la fiducia e tutto sarà, diciamo, diverso, no? Ma soltanto hanno bisogno di tempo, ok? Poi, il nord, diciamo che proprio come nel nord Italia noi siamo così, checcherone, checcherone, partendo, massage, checcherone, checchiecchiecici. Proviamo, 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 troviamo! Molto! E quindi nel nord di Madrid abbracciano quasi subito, ti baciano e tutto è troppo, troppo, troppo! Questo è incredibile! Quello che non mi piace è che nel nord decchiomine scrive Thanks. non parlano il servo correttamente non ci sono le regole grammaticali per loro oh mamma mia ma va bene dai cosa posso cosa posso fare ok poi diciamo nel centro specialmente a belgrado e a belgrado è proprio come a roma nel senso che la gente non è troppo fredda ma neanche troppo calda diciamo che così così centro e poi anche qui a belgrado è un po costoso non è così costoso come a roma quando sono stata a roma e i prezzi sono stati altissimi tre volte più è stato tre volte più costoso tre volte più costoso in comparazione con qui belgrado io sono stata a mamma mia e va bene non so non so perché ma ok anche quello che abbiamo in comune che se hai bisogno di qualche aiuto devi chiedere subito altrimenti non ha intenzione di ricevere questo aiuto e poi si è molto molto strano di trovare due ragazzi serbi parlando tra loro stessi almeno se non sono amici o qualcosa così di solito abbiamo le cuffie o leggiamo qualcosa oppure lasciamo i registri della voce verso viber o qualcosa così oppure verso facebook quindi questo è cattivo ma va bene quindi credo che questo è perché si lavora molto e quindi tutti siamo un po infraditti pensiamo molto dei soldi da lavoro eccetera quindi questo è un po triste in realtà noi siamo molto amichevoli molto carini e quindi se voi avete intenzione di di andare in Serbia specialmente a Belgrado si voi avete intenzione di essere benvenuti e non sarà noioso perché ci sono tantissime cose da vedere e da fare quindi ecco 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 quindi con questo vi auguro una buonanotte ah e se vi chiedete chi è il ragazzo dietro di me e questo è il nostro Novak beh voi adesso è il secondo tenista da un mondo ma io sono sicura che sarà di nuovo primo ma vediamo ok adesso è davvero basta e nel terzo video parlerò dalle parole simili e le parole diverse tra serbo ed italiano e mi presenterò un po' in serbo così e voi avete intenzione di sentire un po' la mia madrelingua ok adesso vi lascio buonanotte e sogni d'oro bacio ciao ciao